La situazione è sempre più complicata, numeri impietosi quelli di un Catania che deve fare conti con una posizione di classifica deficitaria. Le responsabilità per il preparatore atletico Luciano Mica in rosso-azzurro nel 74-75-76-77 non ci sono dubbi. In questi casi la colpa è sempre di chi allena il gruppo. Gli infortuni da traumi sono normali ma gli infortuni muscolari sono una chiarissima errore di chi allena. Perché dà un carico di lavoro sbagliato all'atleta e l'atleta si scassa. Quindi il preparatore atletico dovrebbe conoscere a menadito tutte le caratteristiche fisiche e muscolari dei giocatori? Ma qua siamo ai paradossi più totali, hanno spesso un milione di euro, sono ben capito, per fare delle macchine, per prevenire gli infortuni e ce ne hanno una marea. Non è logico, non voglio entrare nei dettagli, io non li so. Però ripeto, l'infortunio muscolare è un eccesso di carico o un carico sbagliato. Quando tu dai un carico sbagliato o un eccesso di carico, l'atleta si scassa. Allora tu devi sapere qual è il carico di lavoro. Diciamo al 100% che i carichi di lavoro devono essere personalizzati attraverso una valutazione preventiva di quello che l'atleta può sopportare. Il Catania calcio nel 74-75 fu la prima squadra d'Italia a lavorare con gruppi personalizzati. Loro adottarono una batteria di test che gli permisse di conoscere di ognuno di loro la resistenza, la forza veloce e la velocità. La cosa assolutamente sorprendente fu, prima di tutto i risultati, il Catania ha vinto con 15 punti di vantaggio il campionato. Questo dunque è il contributo con Maurilio Abela che ha scovato a Siracusa il professor Luciano Mica. Io commentare le parole di Mica non c'è ne bisogno perché mi sembra che sia stato chiaro l'impito, almeno per la sua esperienza. Però mi sembra di poter dire che questa storia di Ventrone è una storia che sembra infinita e finisce domani il giorno d'andata. Alessandro, poi sentiamo anche gli altri ospiti al tavolo tecnico. Prima di mettere in discussione un allenatore bisognava mettere in discussione sicuramente Ventrone. Ma dati alla mano, non è che sono così congetture. Stiamo parlando di una squadra messa al tappeto proprio per le circostanze evidenziate giustamente dal professor Mica. Ventrone è arrivato per la prevenzione degli infortuni con un corredo di sei uomini nel suo staff, di attrezzature, palestra realizzata a uso e consumo delle sue esigenze. Se i risultati sono questi evidentemente è stata sbagliata completamente la metodologia di lavoro. Poi sarà un grande professionista. Non è possibile mettere in discussione prima Pellegrino e poi Sannino se prima non hai messo in discussione Ventrone. Questo è proprio un qualcosa che è inspiegabile e ad oggi non è risolto. Ventrone non è facile da gestire nel senso che è uno che si intromette nelle questioni tecniche. Assolutamente. Dà anche consigli durante la partita, non la partitella dell'allenamento, ma durante le partite di campionato. Ce l'ha detto anche il giugio sportivo. Il giugio sportivo l'ha pure ammonito perché dava indicazioni tecniche ai giocatori. Lui si è portato dietro sei uomini, roba che nemmeno a Real Madrid avviene. Operazione complessivamente da un milione di euro. Un milione, un milione e cento, insomma qualcosa del genere. In Catania ci poteva comprare due signor giocatori con questo milione di euro. C'è anche una mail per mettersi in contatto con lui che ha i reparti speciali. Questo per farci capire un po' l'esaltazione del personaggio. Grazie. Grazie.